In Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse, Omar Sai, che ha raggiunto la fama globale con quasi amici, interpreta un playboy a cui viene affidata una figlia che non sapeva di avere. Nel cercare di ricontattare la madre, intraprenderà una carriera da stuntman e finirà per legarsi alla bambina, salvo dover affrontare poi un triste destino insieme. Non è la prima volta che questa storia viene raccontata. Il film è infatti il remake francese di No Se Acceptante Soluciones, pellicola messicana distribuita in Italia con il titolo americano di Instructions Not Included, ripreso nel sottotitolo italiano del remake. Se la nuova versione è ambientata tra il sud della Francia e Londra, l'originale divideva l'azione tra le spiagge di Acapulco e Los Angeles. L'uscita del film in Italia arriva con diversi mesi di ritardo rispetto al resto del mondo, dove è stato distribuito a partire dai primi di dicembre del 2016. Il mix di commedia e dramma familiare ne hanno fatto un enorme successo all'estero, rescuotendo consensi da critica e pubblico. Grazie a tutti! Grazie a tutti!